Poi, agli ex tronisti, che cosa avevano chiesto? Ragazzi dovete farci un piacere, assolutamente. Noi abbiamo un ragazzo autistico, si chiama Michele, che lui ha un grande desiderio. Il suo grande sogno è farsi fare una coccola da Maria De Filippi. Ce la fate? Puoi parlare? Che rapporti siete rimasti con Maria? No, no, possiamo... Ah, quindi potete parlare. Capite un totesimo brutto? No, no. Ne si dà una promessa. Lei è la regina, lei è la regina. De Filippi. No, non ci credo. Il desiderio di Michele. È stato difficile, perché questa è la regina, lei è la regina. Ciao Maria De Filippi. Ciao Maria. Bene, Maria De Filippi. Tutto lo sento. L'abbiamo qui, lei è con te. Maria, lei lo toglie, che vuole è con te. Quanto è profonda lei? Cinque metri. Cinque metri? Sei l'unica che ha cinque metri. Grazie. Lui ha un desiderio, Maria. Diciamo che noi siamo venuti a testa di... Cioè, noi siamo la regina della televisione italiana. Siamo sempre domani. No, Maria, per me, Maria, per me. Ti chiedo prima soltanto la coccola e poi alla fine della domani c'è la luce. E Maria, come può tirarsi indietro davanti al candore di Michele? La, 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 domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Come se, convenienceば, opportunitya, domani arriverà lo stesso. E poi, yeah.